Ehi Asia! Tempo di riferimento 29.54 Puglia di Ginevra, Gartone e Piera, Corea di Vigina supereranno il quale le prime due atleti classificate anche di questa batteria come le altre già disputate sino a questo momento ve li si conclue la loro prova Ehi Asia! Il problema di sentire Agis ha già preso il mio incontro anche la segna finale numero 2 vai a parte con la vina di Maui per conquistare le prime due importanti posizioni, aprite in curva in questo istante, pronto per l'ultimo sforzo, per la piccara in alto, per la trasferirà la prima volta se vuoi, quindi lascio veramente un po' ma ecco il livello in questo istante più la allogare Grazie a tutti.